La Russia vuole davvero dialogare perché alla fine... Questo dovreste chiederlo all'Avro, anzi forse più appunto. Senta, la condizione dell'Italia com'è a questo punto? Dibandiamo sempre più dialoganti o... Quella che abbiamo sempre spesso, li condividiamo, devo dire, con la maggior parte dei nostri partner europei e non soltanto. L'unica soluzione, lo vedrete anche nel testo di conclusioni che arriveranno, l'unica soluzione alla situazione in Ucraina a questo momento è quella del dialogo e della chiamata alla responsabilità per tutte le parti coinvolte nella crisi. Dentro l'Ucraina e fuori dall'Ucraina.